ciao a tutti ragazzi ecco questo è il secondo breve video di approfondimento sul l'appena annunciato ormai ormai da un pochino in azuma 11 victory road heroes victory road che sostituisce quello che conoscevamo fino a poche settimane fa come great road of heroes o heroes great road allora ho fatto un piccolo approfondimento già sul titolo sul logo sul perché è stato creato questo nuovo nome questo nuovo logo sul significato quindi se non l'avete visto vi invito a recuperarlo adesso voglio concentrarmi di più sulla storia perché legata al titolo legato allo sviluppo lungo e travagliato c'è anche stato un importante appunto modifica della storia adesso sono sempre sulla pagina ufficiale sul blog di level five dove ci sono le ultime notizie relative appunto a questo titolo la traduciamo in italiano e vi faccio vedere vedere un attimino allora qua come abbiamo già visto il titolo è cambiato perché è cambiato tutto in realtà quindi in pratica qui dice che victory road o road to victory in pratica sono diventati più adatti di great road rispetto al titolo di prima anche perché la storia è cambiata quindi come dice ciò che è stato cambiato rispetto al piano originale è non lasciare che sasanami un mei che è il appunto il protagonista raccolga in qualche modo cioè nel senso semplicemente recluti tutti i personaggi del passato delle nuove delle nuove cioè delle squadre che già conosciamo di arion mark sonny quindi delle delle saghe che abbiamo già imparato da male nel corso degli anni e non è più così perché lo sviluppo è stato lungo la storia è stata riscritta più volte e adesso in questa versione versione finale c'è una modalità storia che ha una storia a sé e poi una modalità anche di raccolta dove ci saranno appunto tutti tutti i personaggi eccetera perché ricordiamolo che il nostro protagonista questo questo ragazzino qui che vediamo tenere tenere saldo il pallone e portarlo portarlo al cielo non è un giocatore come nelle altre saghe lui non può giocare a calcio è bensì l'allenatore cioè che lui che forma che forma la squadra quindi una cosa molto diversa e quindi la storia è molto più adesso vediamo quando abbiamo dei dettagli in più eccoci qua come vediamo il personaggio principale ama il calcio ma non può giocare a calcio quindi lui recluta altri giocatori lui è la mente lui è quello che crea la squadra no lui è il comandante in qualche modo quindi anche l'approccio rispetto a tutti gli altri giochi di nazuma dove impersonavamo il capitano che sia un portiere un centrale un attaccante comunque un giocatore effettivo della raymond adesso invece il nostro personaggio il protagonista è invece un uno che crea la squadra il comandante l'allenatore in qualche modo come mark nella saga di go in qualche modo e quindi questo cambia tutto qui vediamo dei dei bellissimi artwork di alcune delle delle principali ambientazioni perché come poi adesso andiamo a vedere si svolge tutto anche in una nuova regione quindi come come vedete nel kyushu che appunto è una regione appunto giapponese c'è una nuova scuola che è una scuola nagasaki nel kyushu e che non è la solita raymond e anche qui il logo il fulmine che era sempre la raymond adesso c'è questo logo con le nuvole quindi in queste nuove location che ci porta in un'altra regione in un altro diciamo ambientazione rispetto a quello che abbiamo visto quindi moltissimo di di diverso rispetto a quello che abbiamo visto quindi non abbiamo cioè nel senso non abbiamo come pensavamo una specie di reboot della saga della saga originale quindi è una storia totalmente nuova è una storia totalmente originale e e quindi questo questo ragazzo la farà per sé cioè non sarà non entrerà nelle vicende di marca a un certo punto a scombussolare tutto sarà proprio una nuova storia una nuova storia che porterà un nuovo epilogo un nuovo un sacco di nuove diciamo anche meccaniche e questo è quello che sappiamo sulla storia che è una che è una gran cosa è davvero bello qui vediamo appunto altri artwork di scene di intermezzo probabilmente con il nostro il nostro simpatico simpatico protagonista e allenatore e alcuni di quelli che appunto probabilmente saranno i suoi giocatori quindi della della nuova squadra della sua scuola e quindi è molto interessante perché è totalmente diverso da tutti gli nazionali che abbiamo visto e amato nel corso degli anni quindi questo è quanto adesso ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi ma questo per adesso è quello che sappiamo e io sono super fiducioso spero davvero che lo possano rilasciare anche al di fuori dal giappone almeno all'esterno anche se non in tutte le lingue ma almeno una localizzazione in occidente e niente questo era un piccolo approfondimento sulla storia fatemi sapere se lo sapevate cosa ne pensate se avete appunto hype oppure non vi interessa più ormai è passato troppo tempo e niente io come al solito vi invito a lasciare un like a iscrivervi se non l'avete ancora fatto io continuerò sempre a portare i contenuti di Inazuma perché mi piace un sacco e quindi niente restiamo in compagnia giochiamo a calcio insieme con questo e tanti altri progetti ciao